Ciao a tutti, vi invito a provare il nostro corso in collaborazione con l'Associazione Verace Pizza Napoletana rivolto appunto a chi ha fatto già un corso con noi o chi vuole diventare un futuro pizzaiolo o un fringitore. È un corso, una masterclass in questo caso, che ci condurrà in tre giornate dove spiegheremo e tratteremo appunto le verdure di stagioni, dati da impastellati e non solo e un percorso che faremo appunto con gli impanati durante il quale spiegheremo le tecniche di lavorazione e di conservazione e mantenimento dello stesso. Vi aspetto.